Siamo con Fabio Grosso, la grande soddisfazione, non è stato facile con lo Spezia, quindi grandi complimenti allo Spezia, però è una Juventus infinita questa. Abbiamo fatto una partita strana perché siamo entrati e a tratti abbiamo fatto quello che sappiamo fare, infatti si è visto, però per lunghi tratti purtroppo eravamo tanto contratti, tanto tesi e non deve essere così. Siamo ragazzi, fa parte del percorso, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare e siamo contenti di questo risultato perché è un bel risultato e credo che ce lo meritiamo. Mi piace il fatto che abbiamo mandato tutti e sette i cambi sul terreno dei giochi? Ma l'abbiamo fatto sempre, forse credo che oggi sei ne ho mandati, però siamo qui per far crescere un gruppo di ragazzi che ha grande qualità. Adesso c'è la finale col Palermo? Sì, 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 lo vogliamo fare bene, vogliamo andare fino in fondo, ci siamo arrivati, credo che abbiamo le qualità per portare a casa un trofeo importantissimo e lo vogliamo fare, sperando di riuscire a proporre un calcio che sappiamo perché sappiamo fare molto meglio rispetto a oggi. Grazie a FadoCroft.